E' bella a tutti ragazzi sono Samuel di questo nuovo video Oggi siamo su Fortnite Da domenica che non faccio il video a dire la verità Vabbè siamo con Alberto, saluto Alberto Ciao In questa challenge consiste che ogni kill che facciamo dobbiamo urlare Ok? E mettiamo pronto, metti pronto Alberto Intentami con il mio skin No, che skin mi metto E mi metto, io mi metto leader squadra a me No, oh sì, ok E Alberto ci sei, mi senti? Sì sì, ci sono Ok, raga ho sempre questa schermata di Batman Di quando mi sono sciopato Batman in live Vi ricordate? Le due erano Sì sì, ma non ricordo Anche se non l'ho visto tutto il video, saluto No, live era Non lo so Sono sbagliato Raga finalmente ora mi fa rifare di nuovo i video Perché c'erano problemi No, non mi sono messo lo zanno di leader squadra a me C'è vabbè mi devo tornare questo Guarda che bello Alberto Ho questo di leader squadra a me Ho la skin di leader squadra a me Guarda Io lo so Allora dove andiamo? Corso Sì Hai fatto il codice creatore perché c'era un youtuber che si chiamava Samu Quindi lo cambio Samu08 il mio nuovo codice creatore Va bene Alberto? Come? Hai fatto un video dove c'era... Come? No, allora C'è uno youtuber, no? Che si chiama Samu Quindi così non così copio Ah sì Nel negozio aggetti sai che cosa supporta? Samu trattino basso, no? Supporta Allora io meglio se... Raga se... Scusate se ho detto tutto sto discorso Ma è meglio se mettete Samu08 raga Perché così nemmeno non copio E non voglio copiarlo Già un arco? La cosa è incredibile Una kill Delle kill Uguale un urlo E ci sentiranno da tanto lontano Penso Io già Sono... A me sì A me mi ammazzeranno Beh vabbè Per Devi farlo per il video C'è gente Sento sparare Eccolo E' una catone per urlare Raga ho fatto un urlo Raga è incredibile No ma lo fregati il pompa Raga è incredibile Abbiamo urlato un botto Non ho male che sono in camera mia Vabbè tanto mi sento con lo stesso I vicini E' il mio Io ho il pompa tattico verde Io ho il pompa tattico verde Io ho il pompa tattico verde E' quello blu raga Scusate Scusate se mi confondo con la lingua E' Volevo dirvi E' Alberto quello blu Io quello Verde Comunque raga Vi ricordate le shorts Che ho fatto Domenica Comunque No raga Scusate Mi sono dimenticato Che dovevo chiamarmi cecchinatori Adesso Da adesso vi chiamerò cecchinatori Ok cecchinatori Per voi va bene questo nome Per me si Mangio Raga Raga Mi ricordo un video divertente Di uno che si chiama scottets Che diceva Fatti un secchio di cavoli tuoi Mi sono mangiato i cavoli Chi conoscere scottets Può capirmi Io non ho un cavolo Di assalto Allora mi faccio Un secchio di cavoli Ok Raga sta buon Oh è mio Vabbè mi faccio Un secchio C'è la pittadietta C'è la pittadietta Quella lì pure Sai Ok Ok Allora la prossima volta Mi faccio un secchio Di cavoli miei Il gioco Lo tattico Sento Sento Vedo il simbolo Che sparano Mi sa che sparano Perché vedo il simbolo Che sparano Fa un po' Confondere Però vabbè Oh Sono pensato Raga comunque Ho un nuovo tasto Adesso con L Mira Ho cambiato tasti Ok C'è sta cosa What? Ah forse per una missione Sì per una missione Raga Alberto Tu hai quante armi hai? Io ho tre armi Più uno scildino Io ho Due armi Più 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 tre Granate Cinque Bene Ok Andiamo in sì Sì ok Andiamo 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 In sei Andiamo In zona sicura Alberto Per fuori Chiama la zona sicura Sa si pensano Che andiamo nella tempesta Quindi è giusto Perché sei E questo prima Era la grotta E lo so E adesso è diventata tutta piena d'acqua Dalla stagione tre No No raga Oddio Che so Oddio E fu così E E E E Alberto Stava per morire Solo sul da zona Sto scherzando Alberto Alberto Stava per morire Solo sul da zona Sto scherzando Raga Sto scherzando Lo sai che sono Lo youtuber scherzoso Non voglio rovinare il video Parlando forte Allora Allora Se trovo un'arma leggendaria Devo farmi un secchio Di cavoli miei Bravo Oh raptor Salve raptor Salve buoni raptor Salve buoni raptor Ti guardate un colpo in testa Parodiali salve buoni Con un po' di sushi Oh no Sto muoio Ti conosce Tu gente Capisce Aiuto Sono morto Alberto Aiuto mia E Vabbè Vabbè Si è allontanato Mi è abbandonato Raga Mi scrivete nei commenti Quanti lingotti avete Su Fortnite Raptor Fatemi un secchio Di cavoli vostri Raptor Cuore 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 Oh Dove sta innando Oh Però Si fermo Però Si ferma Raga ho aperto il menu Non perché se questo gestico mi cammina da solo Quindi questo è un trucco per stare fermi Dai raga non ce l'ho con voi Raga non voglio farlo non voglio farlo minare il video che lo stai parlo dall'altra voce Non c'è il tempo Non c'è il tempo La tempesta Raga la tempesta No la tempesta Cambia gli armi Alberto secondo me quando dici che se pinghi un posto vengono tutti nemici ma io non penso che è vero Io come cuore solamente lo scendino Ma perché non mi faccio un secchio di cavoli miei? Ce la facciamo fra ce la facciamo Io magari no perché ho 30 di vita Cambia gli armi fra Raga non voglio rovinare il video perché parlo così tanto E rinca il microfono Che figlio Guarda sono un pirla Non dire parlo E fu così che Sam rischio di morire Solo su Dazon Ma è solo vissuto E mi faccio un bel scendino di cavolo mio E' difficile stare al gioco al mondo Quando perdi l'orgoglio Lasci casa in un giorno Tu dimmi se pensavi solo ai soldi Soldi Come se avessi uro i soldi Guarda amico Ricorda che devi urlare quando lo uccidi Non so guarda c'è manco uno Adesso gli faccio un piccone Guarda lo faccio un piccone Di burlare Le forti ritardo Vabbè Corri Corri Scappo c'è la tempesta Corri scappo c'è la tempesta Mi sto creando un'arma Ma sbrita Ok vai vai Samu Samu ferma Fermo Qua Qua Samu Queste cose Fra Queste cose qui Che ti fanno andare in safe Ok Io ho 400 lingotti Raga Io ce ne ho altre 4 Scudone mio Ok un assalto Ok un assalto Facelo 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 Che challenge è epica questa raga Ce l'ho già uno Ce l'ho già uno L'ho trovato uno già prima Ok Ok raga Questo è un video Questo è un video di Tipo Che ne sono Che ne sono Alberto Ah non vedo io Vedo io Sono le È l'1.40 raga È tardissimo Vabbè L'1.40 di pranzo Poi non so che ne sono Quando pubblico il video Adesso è l'1.40 Ma perché andami faccio un secco di cavoli Vabbè raga Basta dire sempre Questo secco di cavoli Di cavoli miei Ho un'idea Alla fine del video Farò Farò Alla fine Vieni qua Dov'è? La macchina? Sì Facciamo 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 Vado a partire Vieni Fra Qua Si aspetta che mi hanno fatto Oh Scusami Ma a posto lo fai Non è vero Scusami Oh Fai la messina No Che sto facendo raga Spero Spero che non parla troppo alto Raga ma perché nella live che ho fatto una sera con alberto Quando avevo batman No con il trascopato batman La skin Quando ho fatto con la live con alberto che avevo batman La skin Sentivo tipo Tipo si sentivo tipo strano la mia voce Non so perché Disattiva Disattiva la musica Alberto E come si fa? It's worse Per me è it's Oh sì No 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 Ok Ok finalmente Così mi sentite meglio Tanto siamo arrivati Eh facciamo una bella visione reale Facciamoli per i nostri cecchilatori Mi sparano No mi sparano Non so da dove Io 45 di video e 75 di scudo Dove sono sinemigino? Beh A me mi serve qualche scudo Oh dov'è? Eccolo E' un Neymar Junior Racco c'è troppo gente No 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 Niente Sono morti Uno di me Aveva questo Mi stavo chiamando Matteo Metti pronto Quanti stai Norma ti eri arrabbiato? Cosa? Ti eri arrabbiato? No 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 Eh metti pronto Metti pronto Già ammesso Stavolta però andiamo a parco Stavolta andiamo a parco pacifico Dai Mi sto chiamando Matteo Che folle Non dire Non dire parolacce Eh E' Matteo che mi chiamo Vabbè Alberto Arrivo subito Sai tanto Guardi qualcosa Arrivo subito Anzi Anzi no Anzi no Rimango Rimango Però Per favore Non devi dire parolacce E' bravi Stavolta Matteo Ma non stai Non devi dire parolacce Robo ma perché Non faccio un secchio Di cavoli miei Andiamo a parco pacifico Comunque Non è vero Non dire stupidaggini Eh se Se vuoi te lo faccio anche dire Da mio cugino Ma stai zitto E poi ho iniziato anche a fare Prima di te la season Quando giocavo io lo sapete Ragazzi Eh cecchilatori Lo sapete no Che mio fratello no Ha iniziato a giocare a Fortnite Nella season 9 Da quando non c'erano neanche i capitoli Raga io ho iniziato a giocare Dalla stagione 9 Dalla stagione 10 A Fortnite Prima era NAB Poi sono diventato PRO Oh scudini Che fortuna Il dettablando che ho io addosso È troppo epico C'è un fucile da stagione 10 Non è un arco solamente C'è una persona qui a me Però penso che è il napo Ecco è il napo È il napo Che è boss Devi urlare Non mi rubare tutto Oppure ti giuro Livello 92 Mi voglio Vabbè Normale C'è un arco di schifo È normale Che sono morto Oddio Guardi Headshots Urla Vabbè 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 Ma sto C'è il joystick Secondo una soli Mi devo mettere per forse il menu Ma no Ma perché Se fosse una cosia A me pure Vabbè Nel prossimo video Cambio joystick Hai qualche arco Che solamente un arco Io non so Vabbè Con l'arco Solamente Grazie Mi sento nemici Oh no E' un brinco Ah no Tu l'hai ucciso Non io Sì Io l'ho ucciso Se no Io non avrei Ucclato Ma ci invita Troppo Ci invita Ci invita Centomila volte Non so perché Ecco perché Non giocavo più Già c'è 9 minuti Che se mi invita il video C'è uno con la tua stessa skin Perché Perché Hai urlato Ma mai quanto la finita Si l'ho ucciso Si l'ho ucciso Si l'ho ucciso No no Non l'ho ucciso perché Comunque però Comunque Una cosa Sai quel nemico che ucciso Aveva Con la tua stessa skin Però con lo stile Con la maglietta arancione Ok Raga ho il pinomani Quale di me? Si aveva Ah si aveva la tua stessa skin Aveva In versione basso No vabbè questa Raga Comunque raga Io il pinomani Epico No Scar Scar Epico E poi E adesso Me lo faccio Leggendario No 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 Non me lo faccio Ma io il pompa Epico E adesso Mi faccio Lo spazio Ah ah E vai Io Sfido Giovanni Si No Saku E' una Trappola Ma Quanto Mi danno Sleggio Il nemico Ma perché Sei morto Bravo Ma che procura Mi è Il fucile d'assalto Il mio Però Quello Epico Ok Guarda Che partita Epico Già da 21 Epico 21 Minuti Cos'è Perchè L'hai Ispitato Lo sai Che quelli Vincendo Tanti Ispitavità Fra Io volevo Però L'arma Epica E' Mia Però Eh Perché Tutta Stavate Casino Ok Ho trovato Un medikit Raga Io ho tre Armi Epiche Avevo visto Un medikit Alberto Mi dai qual Il medikit Perché Avevo visto Un medikit Lo sei rubato Mi dai Il medikit Alberto Ok Grazie Alberto Mi senti Io Ok Sire Basta Fare Così Però Io Stavo Non ho Stavito Perché Perché Fai Così Non mi senti Più Ecco Perché Ehm Andiamo In senso Visto Che E' Vicina Ecco Pralla L'amortini Alberto La prossima Vada Che fai Una Kill Devo Urlare Subito Senza Che te Lo dico Io Sai Aspetta Un attimo Ok Va bene Raga Io ho tre Armi Epiche Mi faccio Una foto Per Ricordarmelo Servono sei Granate Mi servono altre Granate Che fanno L'arco Esplosivo Raga Ma io sono Popo Il più Pro Ho tre Armi Epiche Come tre Armi Io Ho tre Armi Epiche Ho Il fucile Pasante Pasante Primordiale Epico Il fucile Primordiale Epico E P90 Epico E L'arco Verde Io Ho Lo Spazio E Lo Scar Epico Io Ti ho Superato Io Ho Superato Completamente Tre Armi Epiche Raga Già Da 24 Minuti Che Siamo In Video Raga Il tempo Passa In Fretta Perché Ti dice Quanto Devo Adorare Il video O La Decidi Tu No Andiamo Un altro Pochettino In Safe Perché Altrimenti Non si Sa Mai Andiamo Un altro Po Lontani Raga Ci sono Alcuni Punchi Alcuni Quelli Live Personaggi Che Ci sono Nei Punchini Che Dicono Che Ci Vanno Che Se Paghiamo Lingotti Ci Vanno Vedere Il La Prossima Zona Sicura Non So Se Lo Sapevate E Ma Basta Tanta Gente Tantissima Molte Vogliono Inizio Il Nostro Gruppo Tantissima Molta Mettiti Assente Ok Mettiti Assente Ok Mo Sono Assente Così Almeno Non 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 Sei Online Almeno Non Si Uvitano Mai Scindone Annaggia Io Io mi pesco Un bel Un bel Pescio Un bel La canina pesca E mi pesco Un bel Pesco Io di legno Sono Sul Materiale Bravo Bravo Ma perché Non 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 Pesco E Vabbè Ma Non Voglio L'armi Un Pesce Raga Torci Già 26 Minuti Quella Normale Ah No Quella Granale C'è Ad un D'urto No Si 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 Buggata Sta Cassa No È Mia Cos'è Tua Come Si No No Perché C'era Lo Scarra Ah Vero Che Pagata Guarda Pagata Ma Dove Vieni La Calla Da Pesca Stai Fermo Alberto Stai Fermo Alberto Stai Fermo Ma Qui C'erano Le Casse Il Bagato No A Bocca Ti ho Pescato Raga Incredibile Ok Questo Qui Io Vi voglio Fare Tutto A Full Materiale Non Mi Nemico Nemico Io L'ho Fatta La Kill Ah È Vero Tiene Un Po C'è Un Po Del Nonno Per Te No No Non Mi Serve Vero Il Pompo Del Nonno È Forte Eh Io Sono Spaz Ti Ricordo Vero Anche Il Pompo Del Nonno Io Tre Kille Quanti Kille Hai Albert In O Tre Allora Io Quelli Lì Con Il Mirino Mi Dice Sei E Quelli Lì È Normale In Mi Dice Quattro A Te A Me Dice Con Quelli Con Quelli Con Il Mirino Solamente Oddio Tre Kille Punto In Tutto Abbiamo Sette Kille Ok Bella Benissimo Una Cosa Ah Granata Posso No 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 Mi posso Per Sire No 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 Me ne mancano 15 Da La mamma si sta così per chiudere No Il Colore Ah Il Colore Eh Non consumare Poi i materiali Ok Io sono Io sono Io sono Cento di scusa No Cento Limita Vogliamo dire Ma basta Quanta gente No Ma ti stanno invitando Dice Dice Che online Invita Mi dice Invita Questo Invita Quello E non ti dire Questo Svento Mannaggia Se Bravo Quello Si dono È mio Quello Si dono È mio È mio Quello Si Alberto Alberto È mio Grazie Bufo Però Che dispensore Che sei Io Ma te Avevi più scuso Di me Io Non meritavo Di più Io Te Avevi più scuso Di me Oh ma Tutto Vivrei Ma quanta gente Metti Di assente E io Sono Assente Come Pure I ragazzi Lo vedono Senti Ormai Metti Di online Che ti devo Dire Anche Se ti In vita Non Fa Niente Ma non è che mi invitano Sai che mi dice Che la richiesta Di unirsi al mio gruppo Mi mandano Lascia di stare Sono Sono Serio 12 Anzi 10 9 Guarda Ho visto Un nemico Passeggiare Nemico Demici Anzi Si chiama I se ci abbatta Questo Però devi Urlare Quando fai Kill Non te lo devo Dire Io Ce n'erano Ce n'erano Due Ce n'erano due Sono morto Ragazzi Ragazzi Aspetta che questo Aspetta che questo video vi sia piaciuto Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale Cecchinatori Quindi Adesso Vi chiamerò Cecchinatori Mi dimentico Scusate Raga E Al prossimo video Aspettiamo Ancetano in lobby 100.000 Bugs Ho bloccato E Ciao Raga Ciao